Di studi di Radiomatter trasmettiamo Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio, in diretta dal Cufrad di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Auguriamo tutti buon ascolto e diamo subito la linea a Fabrizio Gagnor. E grazie Alessandro, dal Cufrad prendiamo la linea, un caro saluto da Fabrizio che vi parla, Fabrizio Gagnor insieme con le persone che sono con me, i nostri ospiti. Questa sera abbiamo due psicologi come nostra consuetudine, vi presento gli ospiti di questa sera, la psicologa dottoressa Teresa De Rosa e lo psicologo dottor Raffaele Galizia. Abbiamo anche la presenza di Lorenzo che è un signore che ha dato la propria disponibilità e di questo lo ringrazio fin d'ora per portare la propria testimonianza di vita legata al tema di cui questa sera ci vogliamo occupare. Questa sera parliamo del tema della frustrazione legato a ciò che ne consegue, le situazioni di aggressività diretta contro gli altri o contro se stessi e quindi conseguentemente tutto ciò che è il conflitto che deriva, intimo ed esterno. Allora proviamo, io vi dirò qualcosa in qualche minuto, almeno accennare a che cos'è la frustrazione. Poi l'aggressività rientra tra le reazioni possibili, non c'è solo quel tipo di reazione alle frustrazioni, ci sono anche altre reazioni diverse che se abbiamo tempo vediamo. Ma all'interno di questo ci sono delle reazioni che definiamo normali e altre non normali. Ma quali sono le cause scatenanti e le conseguenze che derivano dal fatto che il percorso di crescita nel meccanismo della frustrazione non sia stato ben assimilato. E quindi le conseguenze che ci sono anche a livello psicosomatico. Perciò diciamo qualcosa o vorremmo dire qualcosa sulla adattabilità alla frustrazione ed eventualmente se c'è la possibilità qualche cosa sulle tecniche terapeutiche. Ma i nostri ospiti ci porteranno degli esempi pratici di come le situazioni di non aver potuto, oppure diciamo non essere stati aiutati al momento giusto ad affrontare, conoscere, gestire le situazioni frustranti comporta per tutti di trascinarsi delle conseguenze nel tempo. E in alcune situazioni questi tipi di conseguenze di reazioni malate che non sono state ben affrontate e guarite fin dall'infanzia, fin dai primi anni di vita. Le persone non sanno neanche di non aver guarito queste situazioni, si scoprono ad avere dei meccanismi di difesa malati, ma poi si riproducono e possono aggravarsi. Ci parleranno perciò di quando queste situazioni hanno portato a slatentizzarsi anche nelle situazioni di gravi forme di dipendenza da alcol e da droghe. Intanto definiamo un momento. Prima di affrontare parole un pochino più complesse vi presenterò alcune definizioni che traggo da un studio della dottoressa Rosaria Lullo, che è un medico psichiatra. Però vorrei introdurre con una frase un po' semplice in modo che ci capiamo. Le frustrazioni sono necessarie nel percorso dello sviluppo umano, vuol dire in altre parole quando noi fin da bambini piccoli prendiamo un po' le misure rispetto al nostro mondo esterno. E quindi le figure di riferimento, normalmente la figura materna o chi la sostituisce, ma poi anche gli altri, hanno degli atteggiamenti e delle reazioni che possono essere più prescrittive oppure più tolleranti, normative, prescrittive. Oppure, ma che succede? Che ognuno, quando viene al mondo, sa forse stare al mondo? Chi di voi pensa di essere venuto al mondo sapendo già come bisogna stare al mondo? O passano gli anni e abbiamo ancora da impararlo adesso, vero? Come bisogna stare al mondo con equilibrio, con equilibrio. E allora che si fa? Ve lo immaginate già da soli. Da bambini piccoli si fanno le prove. Metti alla prova la figura di riferimento e vedi come reagisce. Allora i capricci, no? Allora è giusto dare tutto, tutto quello che il bambino piccolo chiede? Oppure devi allenarlo a gestire questa piccola frustrazione? Vuole la pappa subito e immediatamente. Corri! Appena piange la prima volta, subito che cosa ha bisogno? Devo darglielo. E certo, questo è un grande amore, ma non è detto che sia l'amore giusto. In certi momenti, in certe situazioni, allenare. Fin da piccoli, a gestire l'equilibrio, a rispettare i tempi, conoscere le attese. Guardate com'è importante. Uno che sia bambino piccolo e che non è mai stato aiutato ad aspettare, ad attendere. Un minimo, non diciamo tanto, no? E adesso banalizzo perché dobbiamo un po' semplificare. Però crescerà con l'idea che lui ha diritto a tutto subito. E vorrà tutto subito. E se si accorge che facendo i capricci da piccolissimo, basta fare un po' di capricci che ottiene tutto, andando avanti con gli anni, farà capricci commisurati a quello che sono le sue pretese. Allora arriverà l'epoca in cui va alla scuola materna, poi arriverà la scuola elementare, poi andrà avanti e poi? E poi quando i suoi dolori, le sue sofferenze, riterrà che siano gravi, e a chi darà la colpa da cresciuto? Chi sarà a risolvergli i problemi? Guardate che diciamo che viviamo in un mondo di persone frustrate, in realtà si semplifica e si banalizza un po', perché è vero che è molto dilagante questo, ma non il fatto che dire frustrato vuol dire poco, mi sembra, alla fine di persone che non sono state mai allenate a gestire le situazioni di frustrazione in modo equilibrato, è poi quello che vogliamo dire in fondo. Andiamo avanti, ecco, vedevo il monitor che faceva qualche capriccio, allora volevo essere certo che funzionasse tutto normalmente. E questo è un punto importante, forse a me sembra che sia meglio anche dirci meno cose, ma che poi riusciamo a custodirle dentro la mente, perché lo studio che vi volevo presentare è articolato, molto complesso, parla di tanti elementi, ma andrebbero un po' affrontati uno per uno, con calma, altrimenti diciamo tante cose e poi alla fine uno non si ricorda niente, perché poi ci succede così a tutti quanti. Quindi possiamo ricevere a fronte della nostra relazione che si instaura con l'esterno a noi, fin da bambini piccoli, dei segni di gratificazione, di appagamento, di riconoscimento, oppure dei rifiuti temporanei. Pensate come è utile, per quanto non sia facile dire di no alla richiesta di un bambino, ma che lui riesca, aiutato, supportato, a capire che nella vita ci sono tanti no. Tanti no, ma quanti? Dipendenti dalla nostra volontà, qualcuno sì, la maggior parte no. Quante situazioni di sofferenza, di dolore, di cose che non vanno come si vorrebbero. Pensate nelle relazioni di coppia, nelle relazioni con il mondo della salute, le malattie, le situazioni che accadono. Come fai ad accettare delle situazioni se non sei mai stato allenato ad accettarle da piccolo? Se da piccolo ti davano sempre tutto e subito, e tu diventavi un po' il principino, il re della situazione. È un po' come qualche volta si sente dire che è un po' la malattia dei nonni, qualche volta si dice, i nonni non sanno dire di no, perché si sciolgono davanti alle richieste di un bambino. Invece i genitori normalmente sono molto più attenti, e invece qualche volta, allora poi succede, lo sapete che succede, allora perché gli dici sempre di sì? In fondo tutte queste cose hanno dei fondamenti anche nella teoria. Questa sera soprattutto i nostri ospiti, facendoci degli esempi di come può volgersi la vita fino a situazioni patologiche anche gravi, ci faranno degli esempi e ci aiuteranno perciò anche a fare dei collegamenti con la teoria. Quando una vita non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Vedete che alla fine si parla di queste parole che sembrano un po' strane, però ci riguardano tutti, e ci riguardano da vicino. Vi dico ancora questo, in quattro minuti poi lascio la parola ai nostri ospiti. Ecco, state attenti perché non è facilissimo, però possiamo seguire, anche se state facendo qualche lavoro in casa, se state guidando, se siete incolonnati su qualche autostrada o tangenziale potete seguirmi. La frustrazione consiste in una condizione psicologica, emotiva, comportamentale, motivazionale, che è affiancata, per quello si dice quando una persona non ha affrontato bene la frustrazione, dice che è un frustrato, tanto per semplificare, in realtà avviene che sia questa condizione psicologica che si vive affiancata a disturbi psicosomatici e neurovegetativi, ma qui stiamo già parlando delle conseguenze, in fondo, di quando ci sono già le conseguenze negative. Quando è che emerge questa condizione? Quando c'è un mancato soddisfacimento dei bisogni personali e se non si è stati allenati ad affrontare in modo sano la frustrazione da piccoli, vedi che va a toccare, a ledere la capacità, la potenzialità di autostima e di autocontrollo. Cos'è l'autostima? È la consapevolezza che dentro di me ci sono le risorse, le potenzialità, perché io ce la possa fare ad affrontare questo problema, che è diverso e che credere in se stessi è diverso. Credere in se stessi, tante volte si confondono queste due cose. La maggior parte, forse tutti, coloro che vengono nei centri del Cufra per guarire dai problemi dell'alcolismo e delle droghe, hanno passato tanti anni a credere in se stessi. Io smetto quando voglio, perché io sono uno, no, no, io, gli altri no, ma io. È sbagliato. È sbagliato. L'autostima è diverso. Io so che dentro di me ho le risorse e le potenzialità perché posso farcela, poi devo volerlo, devo seguire con un metodo, un criterio, un percorso, ma allora vedi che devo essere allenato. La frustrazione perciò viene provata da tutti, ma si capisce, tutti, il vissuto e di come noi viviamo tale condizione emotiva, quindi la frustrazione, come noi la viviamo, è un presupposto fondamentale che incide profondamente in modo marcato, lo diciamo in parole difficili, ma è quello che vi ho già anticipato prima, su una equilibrata congruenza tra la realtà esterna e i tratti di personalità. Insomma, riesce a stare al mondo in modo equilibrato, riesce ad affrontare i problemi. si è studiato tanto, tanto questa condizione, questo stato psicologico, questa condizione di vita. Vi ho già detto che incide molto, molto fortemente la figura materna, ma ci sono anche situazioni che inducono a crescere incapaci di gestire le frustrazioni. pensate se già le figure genitoriali sono state a loro volta vittime di abusi, pensate ai traumi infantili, essere orfani di madre e padre di entrambi i genitori, vivere in condizioni di particolare disagio, questi sono tutti dei fattori, non sono predittivi, però sono condizioni di vulnerabilità. Avere i genitori affetti da disturbi psichici o i genitori tossicodipendenti, o etilisti. Avere genitori ansiosi, iperprotettivi, questo aumenta la condizione di vulnerabilità perché vedi che la figura di riferimento è fragile, è fragile, come fa ad aiutarti se già essa stessa ha bisogno di aiuto. Sentite, io mi fermo qui, ascoltiamo i nostri ospiti che ci parlano e ci spiegano con degli esempi, poi se rimane del tempo andiamo avanti poi a dire delle altre cose teoriche, però le cose pratiche partendo dal presupposto di cui vi ho accennato qualcosa stasera sono molto molto importanti, gli esempi ci aiutano di più. Allora, ascoltiamo gli esempi che ci portano i nostri ospiti, ascoltiamo la testimonianza che ci verrà presentata e intanto voi preparatevi già con le vostre domande, le vostre considerazioni, io ve lo ricordo, per i vostri messaggi scrivete al 331-791-4523, voi sapete per i messaggi Radio Mater, è uno strumento molto molto utile questo, per scrivere quello che pensate, quello che volete aggiungere su questa tematica, anche le vostre esperienze di persone che avete conosciuto, così facciamo insieme tra tutti la trasmissione, che possa essere molto molto utile per chi ascolta. Dunque, allora collaborate tutti scrivendo al 331-791-4523, se invece vi piace di più scrivere le vostre email scrivete a diretta-radiomater.org se preferite telefonare in diretta telefonate allo 031-64-60-00 è il numero della diretta di Radio Mater. Ricordatevi poi che, ve lo ricordo tutte le volte, ma per chi non segue le trasmissioni sempre può essere utile, che voi potete riascoltare la presente trasmissione e anche le precedenti, in modo facile andate sul canale YouTube Kufrad Centro di Cura e lì le trovate, le potete riascoltare. Potete anche lì vedere tante testimonianze che le persone che sono qui per curarsi portano per fare prevenzione, per aiutare, ad aiutare. È molto utile. Il contenuto di ciò che vi ho appena appena accennato questa sera, ma in modo diffuso con la tematica presentata dalla psichiatra di cui vi ho detto, lo potete leggere sulle news di alcologia che voi trovate sia sul sito Kufrad.it oppure anche pubblicato su Facebook alla pagina Kufrad News su alcol e droghe. Allora iniziamo, ascoltiamo i nostri ospiti, per prima la psicologa dottoressa Teresa De Rosa. Buonasera a tutti. Sì, come diceva Fabrizio, la frustrazione è un processo necessario nel percorso di vita di ognuno di noi. Quindi ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita, se è già stato fortunato, se non molte più volte, gradi alti di frustrazione. Questi gradi alti di frustrazione però, di frustrazione, ci permettono di farci conoscere anche aspetti a noi magari sconosciuti. Qual è la differenza tra una persona che riesce a andare oltre la propria frustrazione, quindi imparare anche da quel momento frustrante come momento conoscitivo e quindi riuscire a comprendere aspetti di se stessi che prima magari è anche risorse personali sconosciute rispetto a un'altra persona che nella frustrazione assolutamente diventa disfunzionale. Quella frustrazione che non permette un cambiamento costruttivo ma porta invece a dei comportamenti anche disfunzionali. Questo nella nostra professione, nella nostra realtà qui al Kufrad tutti i giorni ci scontriamo con gradi più o meno elevati di frustrazione dei pazienti. Il paziente con problemi di abuso, di dipendenza, ha un grado di frustrazione molto alto. I pazienti tendenzialmente, soprattutto in una prima fase, hanno una grande difficoltà a procrastinare, cioè non riescono ad aspettare, ad attendere. L'attesa diventa un qualcosa di estenuante. C'è la modalità che si dice tutto è subito, classico del tossicodipendente. Quindi ho necessità di un qualcosa, in quel caso ad esempio hai la sostanza poi, ma in generale poi viene spostato anche nella quotidianità, del tipo ad esempio ho bisogno magari di prendere una sigaretta piuttosto di chiedere un'informazione, ok? L'attesa, il dire un attimino in questo momento non riesco subito a prestarti attenzione e viene vissuto come un qualcosa di altamente frustrante. Questa frustrazione non viene gestita, aumenta un'aggressività, una sensazione di rabbia e aumenta in automatica, si entra quasi in un loop che può portare poi a un conflitto. Quindi cosa si insegna poi ai nostri pazienti piano piano? Appunto a dare, ad alleviare, a gestire la frustrazione, quindi passare da quella modalità del tutto e subito tipica della dipendenza a una modalità di attesa, imparare appunto ad attendere, a imparare anche che nelle attese c'è un qualcosa che ci può insegnare molto, no? Quindi si diceva appunto che si impara, ci sono persone che riescono appunto a gestire la propria frustrazione, altre meno. Questo perché alcune si, altre no? Possiamo andare appunto a rintracciare nelle storie di vita dei pazienti figure genitoriali e in assoluto la figura genitoriale più importante nella costruzione di sé è quella della mamma. Quindi, e porterà anche la testimonianza al nostro paziente il signor Lorenzo quanto ad esempio aver avuto una mamma lui aveva definito appunto anaffettiva non gli ha permesso di costruirsi un'immagine di sé solida. La mamma è il primo specchio, è lo specchio, il bambino negli occhi della mamma costruisce l'immagine di sé. Quindi, se io vedo una mamma che ha tratti è ambivalente dei momenti c'è altri momenti improvvisamente senza spiegazioni non c'è io andrò a costruire un'immagine di me distorto comunque non così organizzata. La storia di Lorenzo è una storia molto particolare Lorenzo è un signore che è un nostro paziente qui al Cufrad con una storia di dipendenza da sostanze importante. Ci sono stati due grandi eventi traumatici nella sua vita dove lui appunto diceva questi sono stati i due grandi fattori dove ho sperimentato un livello di frustrazione altissimo una rabbia immensa che mi ha portato un'aggressività che sono andato poi a cercare di dar voce in modo disfunzionale con l'uso delle sostanze quindi questa frustrazione questa rabbia questo non ascolto questo non ascolto che non era riuscito a imparare proprio da questa mamma che non era stata sufficientemente buona non era riuscito comunque a creargli quella base sicura e quel modo di dare voce anche a quella frustrazione ad essere accolto poi l'ha messo nella condizione appunto di sviluppare delle condotte disfunzionali se ha voglia di raccontarci velocemente un po' la sua storia sì buonasera e beh la mia è una storia che incomincia quando avevo nove anni ho visto morire mio padre di morte violenta e visto il rapporto molto molto stretto che avevo con mio padre la cosa mi ha segnato per tutta la vita mi sono attaccato moltissimo a mia madre o almeno ci ho provato purtroppo mia madre era una persona completamente anaffettiva incapace di dimostrare affetti incapace di dimostrare attenzioni per cui mi sono ritrovato a crescere da solo molto molto frustrato molto provato e questo questa frustrazione non sapevo come gestirla non riuscivo non avevo l'apparazione non avevo nessun punto di riferimento quindi sfogava sfogava in una rabbia feroce prima prima a scuola poi nella vita di giorni nella vita di strada perché quella è stata poi la fine che ho fatto cioè sono finito per strada a delinquere a drogarmi pare uso di qualunque sostanza che fosse in grado di soffocare queste sensazioni bruttissime che avevo dentro è difficile è difficile spiegare quello che si prova in quei momenti è una solitudine profonda l'incapacità di agire l'incapacità di reagire da persona equilibrata tutto sfoce in rabbia in aggressività tutto diventa conflitto interiore è un cane che si morde la coda non riuscivo ad ottenere quello che volevo quindi mi sentivo frustrato diventavo cattivo diventavo violento ma questa violenza non mi appagava quindi era ancora più frustrato e sono andato avanti così per anni fino a che non sono arrivato a qualcuno e ho potuto lavorare su questa cosa con l'aiuto del gruppo del mio gruppo e l'aiuto degli operatori della mia referente l'operatrice di riferimento e sto imparando sto ancora adesso imparando come gestire con che criteri con che strategie gestire questa frustrazione che dovrebbe essere una cosa normale per tanti per me è diventata una piaga grazie grazie Lorenzo cari amici accogliamo i vostri interventi allora ve lo ricordo per i vostri messaggi 331 791 45 23 oppure scrivete a diretta chiocciolaradiomater punto org per le vostre telefonate in diretta 031 64 60 00 ascoltiamo lo psicologo dottore Galizia Raffaele buongiorno a tutti grazie Fabrizio grazie Teresa e grazie Lorenzo per questa sua testimonianza molto dura e molto diretta io volevo soltanto un attimino puntualizzare che la frustrazione come già detto bene da Fabrizio come già detto bene da Teresa è una condizione che tutti sperimentiamo e che è figlia dell'ambiente in cui cresciamo e della famiglia in cui siamo nati questo lo dico perché non è raro trovare nella pratica clinica persone che non sono in grado di gestire la frustrazione anche in assenza di una storia di vita pesante come quella del signor Lorenzo ma soltanto anche ad esempio per una madre eccessivamente accondiscendente leggo in questo momento una domanda che c'è stata fatta dai nostri ascoltatori Elsa scrive dicendo c'è un vicino di casa che diventa molto aggressivo con i suoi genitori quando non ottiene ciò che chiede ma i suoi genitori lo giustificano e io non voglio essere invadente dice Elsa con i vicini di casa cosa posso fare? Grazie Elsa questa in realtà è una bella domanda non è raro che capitino queste situazioni in cui i genitori tendono a sottovalutare l'importanza che il loro dire no ad un figlio possono avere il mio consiglio da clinico da operatore di comunità da psicologo ma anche da persona e di provare comunque a parlare con queste persone non tanto come dice lei temendo di essere diventare invadente quanto più che altro dicendo alcune di quelle cose che abbiamo detto in questa trasmissione come un'eccessiva accondiscendenza possa portare il ragazzino bambino adulto adesso non ho ben chiaro l'età di questa persona possa portare delle difficoltà nella crescita di questa persona e nella capacità di tollerare le frustrazioni senza necessariamente ovviamente sfociare in una dipendenza importante ma anche solo semplicemente e soltanto in una difficoltà di affrontare le comuni e più banali difficoltà della vita perché la frustrazione comunque è dietro l'angolo e la miglior palestra come mi piace sempre sottolineare è la famiglia d'origine sì allora in questa email appunto non c'è chiaro l'età ma indipendentemente dall'età la violenza la violenza domestica nasce sempre le dinamiche della violenza domestica sono estremamente complesse la violenza domestica appunto ha un nucleo patologico già all'interno della famiglia quindi non è che un giovane figlio si sveglia meno che ci siano dei problemi psichiatrici sottostanti improvvisamente diventa violento cioè i nostri figli imparano quello che vedono quello che sentono e quello che siamo anche noi comunque in un certo modo non è arrivata un'altra telefonata accogliamo la telefonata della signora Chiara è pronto buonasera 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 volevo porre una domanda agli esperti io ho un problema rapidamente spongo il mio caso allora io sono una persona non vedente totale no? praticamente vivo da sola perché otto anni fa mi è morta la mamma alla quale peraltro ero anche legata molto legata però vi dico una cosa cioè la mia vita è serena è normale cioè io lavoro io cioè non posso dire di essere una persona che si sente con dei problemi però c'è un problema io ho una dipendenza e io penso io rilevo questo comportamento che per me di dipendenza in tante cose io ho una dipendenza da cibo cioè in poche parole io cosa succedeva? fino a quando c'è stata mia madre viva lei metteva comunque un ordine nella mia alimentazione cioè mi diceva Chiara questo lo puoi mangiare questo no e magari dosava anche il quantitativo del cibo che io assumevo allora io vi dico questo io non sono una persona che mangia fuori pasto o mangia giorno e notte no però vi dico una cosa il mio comportamento secondo me che parte molto alla mente nel senso che io non lo so per dire io so perché il problema è che ho un'obesità un po' grave perché io sono aumentata di 30 kg più del dovuto sto bene di salute perché mi hanno fatto gli esami io continuo a avere i valori a posto però c'è questa cosa allora perché io dico che ho una dipendenza perché ho un comportamento stile non lo so io mi sveglio al mattino per dire prima di fare colazione invece di farla secondo l'ordine che dovrei fare che mi ha dato il dietologo così io comincio a mentalizzare no per dire il croissant o qualcosa che mi piace ma prima di prenderlo di assumerlo concretamente io me lo immagino 20 minuti in mente quando io finisco quando io immagino e continuo a fissare il pensiero su quello dolce che mi può piacere o su quel salato alla fine il mio fisico il mio corpo è come se io mi autoinducessi la voglia di quella cosa e io poi alla fine la sento anche a livello somatico questa voglia e non posso più fare a meno di mangiarlo e questo non vale solo per la colazione mi dico una cosa a volte io per esempio anche se non dovrei farlo uno o due volte alla settimana anche se mi fanno da mangiare così ah io mi fisso che devo andare al ristorante e magari un'ora prima mentalizzo come vi ho detto prima e vi dico solo l'ultima cosa a mio parere è proprio ah io sono andata in un ospedale specializzato dove mi hanno poi sotto osservazione anche per gli esami così e tra le varie cose che c'erano io ho avuto anche un incontro con una psichiatra che curava i problemi di disturbo elementare beh io vi dico questo questa persona mi ha giudicata scusatemi io lo dico così per intenderci in gergo perfettamente sana cioè mi ha detto che in poche parole io non avevo bisogno del suo intervento perché non avevo né anoressia né bulimia io ho detto sì però io ho un comportamento di legame da cibo che prima si fa mentale poi diventa sommatico ma dottoressa ma questa non è dipendenza e lei mi fa no ma non si preoccupi non rientra negli stimi che noi abbiamo per dire che lei ha dei disturbi di comportamento alimentare però io vi dico solo una cosa io non riesco a dimagrire ovviamente perché continuo a avere questo problema di questa gola che però diventa prima mentale poi somatica cosa devo fare? grazie vi ascolto per radio grazie ascoltiamo i nostri ospiti allora buongiorno buonasera innanzitutto alla signora allora lungi da me da fare qualsiasi tipo di diagnosi perché ci mancherebbe non facciamo nessun tipo di diagnosi io la inviterei a soffermarsi su questo aspetto come nelle dipendenze come ha detto giusto lei non è tanto il fatto che uno ingrassa o dimagrisce è l'utilizzo che lei fa del cibo mi sembra di comprendere che probabilmente lei ha detto che è ingrassata molto dopo la morte di sua mamma quindi un po' come se avesse voluto forse riempire questo immenso vuoto con il cibo quindi questa mancanza della mamma che era un punto probabilmente molto importante di riferimento della sua vita lo riempie con il cibo che poi uno che lei abbia anche pensieri anche ricorrenti su cosa mangiare se lo immagini e tutto diventa appunto quasi una compulsione no? ma tendenzialmente deve comprendere appunto l'utilizzo che ne fa un po' come il tossicodipendente piuttosto che l'alcolista usano la sostanza per placare stati d'ansia alti e usano la sostanza un po' come un farmaco la persona che mangia in un modo importante tanto da ingrassare quindi si mette anche un po' una coperta addosso di grasso è un po' come se uno si volesse un po' proteggere anche forse da quel mondo esterno perché forse è un mondo che ci può fare male che ci ha fatto male ecco che può averle fatto male quindi indipendentemente dalla lei dice io attualmente ho le analisi assolutamente che vanno bene però è l'utilizzo che ne fa ci sono diverse strategie che possono essere individuate magari la invito ad andare nei centri da un bravissimo anche all'interno delle ASL ci sono dei centri dove si trovano i nutrizionisti e anche dei psicologi che le possono dare quelle che noi chiamiamo delle dritte delle tecniche per sopperire a quando subentra questo pensiero del cibo ricorrente utilizzare utilizzare appunto delle tecniche specifiche per distogliere l'attenzione ma tendenzialmente deve comprendere perché mangia qual è l'utilizzo che ha fatto di questo cibo di che fa del cibo questo riempirsi per sentirsi di nuovo forse non così vuota dopo la morte della mamma ci scrive Nadia che scrive così buonasera nella mia vita ho sempre fatto molta fatica a giustificare gli errori o le cadute delle persone comprendo capisco le situazioni che segnano la vita ma non accetto dice Nadia che per ogni cosa si debba trovare una giustificazione si chiede Nadia ma non rischiamo così di cadere continuamente nel buonismo ascoltiamo i nostri ospiti grazie Nadia vi ricordo nel frattempo cari amici 331 791 45 23 per le vostre domande e i vostri messaggi 331 791 45 23 o con le email diretta chiocciolaradiomatter.org per le vostre telefonate in diretta 031 64 600 Allora grazie Nadia la domanda in realtà è molto interessante quello che su cui volevo soffermarmi è il concetto stesso di giustificazione quello su cui noi lavoriamo in questo centro ma su cui si lavora in gran parte delle terapie che si fanno anche privatamente e non soltanto in persone con delle problematiche di dipendenza di qualunque esso tipo siano non è trovare una giustificazione se l'ho intesa nel termine in cui l'ha inteso lei noi cerchiamo di trovare quella che può essere una possibile spiegazione alla situazione in cui la persona che ci chiede aiuto si trova io penso anche dopo la mia pratica clinica in questo posto che i nostri pazienti non cerchino una giustificazione ai loro comportamenti ma cerchino soltanto una base più tranquilla più sicura su cui costruire una corazza possiamo chiamarla così che gli permetta una volta usciti da questa struttura una volta ripresa la loro vita come tutti noi ci auguriamo che presto riprenderanno si riescano ad evitare le situazioni che hanno condotto a questa difficoltà a questi vuoti a queste necessità di ricercare altrove l'affetto che gli era mancato da una mamma ma può essere qualunque cosa anche banalmente superare le difficoltà dovute ad una rottura di un rapporto quindi non credo che si ricada nel buonismo e nella giustificazione molti dei nostri pazienti sanno di avere sbagliato molto spesso anzi gran parte del nostro lavoro è proprio su questi sensi di colpa dell'aver gettato per gran parte la loro vita aver perso degli affetti aver perso dei familiari o dei figli a volte quindi è proprio questo non è una giustificazione ma è una ricerca di una base su cui ripartire qualcuno che non dice il suo nome riceviamo un messaggio che leggo e dice così c'è poco da dire ci scrive ribellarsi alle croci alle sofferenze non fa altro che peggiorare le cose pazientando sopportando le croci le sofferenze si vede che si può sopportare meglio non è sempre facile ma non c'è alternativa consoliamoci ci viene scritto pensando che dolori noie e fastidi nella vita non sono risparmiate a nessuno o a pochi fortunati io sono in parte non sono pienamente d'accordo nel senso che io credo che non bisogna mai ritenersi passivi protagonisti della propria vita bisogna sempre essere attivi protagonisti della propria vita quindi è vero che nella nostra vita ci verranno offerte diverse vicissitudini più o meno positive più o meno dolorose però in ogni esperienza di vita quella che appunto chiama la signora croce in ogni croce c'è un percorso di crescita e di rinascita se ci si mette nella condizione di poter anche apprendere da quella sofferenza in un momento di grande sofferenza della nostra vita possiamo veramente imparare aspetti inaspettati di noi è quello che noi chiamiamo resilienza dei momenti di grande dolore di grande difficoltà possono tirare fuori aspetti non conosciuti e risorse inaspettate sì sono assolutamente d'accordo con la mia collega è un consiglio che mi sento di dare a tutti gli ascoltatori ma che do tranquillamente anche a qualunque persona faccia parte della mia vita qualunque difficoltà qualunque problema incontriamo nella vita è sempre sempre consigliabile chiedere aiuto a qualcuno può essere un professionista può essere un amico ma tenerci dentro le sofferenze quelle che lei ha chiamato croci secondo me non fa nient'altro che peggiorare la situazione ci scrive Pietro che scrive così buonasera ho una fidanzata che continua ad arrabbiarsi per cose futili per il maltempo si arrabbia per i miei che ritardano urla dice cose offensive maledice le persone è seguita da un terapeuta da due anni ma le cose non cambiano e Pietro ci scrive questo pensando a quale sia la connessione col problema delle frustrazioni non risolte sicuramente la fidanzata di questo signore ha una grande difficoltà nella gestione della rabbia infatti dice appunto che è in terapia la non gestione della rabbia nasce appunto da una frustrazione o una frustrazione a cui non riesco a dar voce che nasce dal profondo nasce dalla mia personale storia di vita da quelle figure parentali che non sono state sufficientemente supportive sento una grande aggressività sento una grande emozione di rabbia non riesco a gestirla e quindi subentrano due modalità o questa rabbia la vado a convogliare verso l'esterno verso qualcosa verso qualcuno oppure la indirizzo verso di me quindi possono esserci poi anche comportamenti di autolesionismo sicuramente non mi sento di dare altri tipi di consigli se non quello che la fidanzata di questo signore è in un momento di grande difficoltà sicuramente che nasce da una storia personale di vita probabilmente dove non non si è riuscita a dare voce a questa questa rabbia in un modo funzionale sì mi accodo alle parole della dottoressa De Rosa e collegandomi anche alla risposta data alla domanda precedente mi sento di dire il percorso che la ragazza sta facendo in terapia sicuramente le servirà sicuramente le sta dando una mano due anni cominciano ad essere un periodo interessante per una terapia quello che mi permetto di consigliarle e comunque di provare a parlarle se non l'ha già fatto e provare lei che magari la conosce meglio anche del suo del suo terapeuta parlarle e chiederle le motivazioni che possono sottostare a questi comportamenti aggressivi allora ecco sta arrivando ancora una domanda ci scrive Maria Angela e scusate per la domanda forse sbagliata in questo momento sono seguita da qualche mese da una psicologa per problemi di esaurimento ma non ho fiducia in questa psicologa non capisco il motivo ma in questo modo sento che non mi è di aiuto cosa mi consigliate di fare Allora la relazione terapeutica si basa sulla fiducia nel senso che il paziente deve affidarsi e fidarsi del proprio terapeuta è anche vero che in determinati momenti proprio della terapia ci sono dei momenti in cui il paziente si sente di non avere più fiducia di perdere le speranze sembra quasi che non stia facendo niente perché non ci sono questi cambiamenti repentini che uno si attende ora io non so la signora da quanto tempo è in terapia eccetera sicuramente anche qui la buona pratica è sempre la medesima parlare e dire le cose e quindi valutare insieme anche la sua terapeuta da quanto tempo state facendo la terapia che cosa sta succedendo all'interno della relazione perché appunto la relazione d'aiuto è un affidarsi e un fidarsi reciproco reciproco del paziente nel confronto del terapeuta come sempre mi trovo d'accordo con la collega e nell'ottica del tema di questa trasmissione vale a dire la frustrazione il terapeuta è in grado di accogliere qualunque tipo di rimando che viene fatto dal proprio paziente e quindi sì mi sento di essere d'accordo con la collega che dice di parlarne con il proprio terapeuta in modo tale da provare ad esaminare assieme quali siano le motivazioni alla base di questa mancanza di fiducia adesso ecco siamo quasi in chiusura ci avviamo perciò alla chiusura vorrei soltanto concludere forse un po' in questo modo abbiamo detto qualcosa poche cose veramente poche cose relative alla frustrazione poi sono arrivate diverse telefonate io vorrei soltanto unirle un po' tutte con un filo conduttore perché vedete che in fondo quello che ci è stato presentato è un tutt'uno ed è molto bello questo da poter osservare vi ricordate le prime telefonate si diceva di quei genitori che giustificano le reazioni strane del bambino o dell'adolescente mi veniva da chiedere ma giustificano o scusano che sono due cose diverse mi chiedo se lo scusano cioè se dicono che va bene perché lo dicono guardate hanno forse qualche senso di colpa hanno forse qualche situazione che dentro di sé non è ancora guarita ricordano forse o magari inconsapevolmente il loro passato a qualche situazione vissuta in cui non avevano potuto esprimere se stessi e quindi loro dicono che non succede a mio figlio quello che è successo a me sapete vedete che tutto questo ritorna tutto ritorna allora sempre sul tema del giustificare la signora Chiara che in fondo si giustifica poi hanno così ben risposto i nostri ospiti a quello che la signora Chiara diceva come riempiendo il suo vuoto ma poi Nadia che ci dice perché giustificare tutto ma allora lì forse diceva scusare più che non giustificare perché chi veniva dopo ci diceva ma allora perché siccome la vita è tanto piena di dolori di sofferenze non impariamo ad accettare vedete che c'è un filo che conduce tutto questo perché alla fine c'è un po' la necessità di fare chiarezza su che cosa vuol dire giustificare e lo diceva bene il dottor Galizia no? Pietro che vive l'osservazione della rabbia della fidanzata che in fondo ha questa reazione di aggressività eterodiretta ma altri ci descrivevano un'aggressività autodiretta effettivamente nelle situazioni ma Maria Angela che non si fida del terapeuta no? Anche questa situazione è un tutt'uno con ciò che abbiamo ascoltato allora passiamo dal che può essere utile concludere così invece che scusare tutto pensiamo a cosa può significare la giustizia la giustificazione che ha sapete che la giustizia e forse questo ci